Il kiwi, un frutto prezioso, scopriamo nelle caratteristiche. Bello da vedere, buono da mangiare e ricco di proprietà. Ma quali sono i valori nutrizionali di questo frutto? È costituito per l'80% di acqua, povero di grassi, ma ricco di zuccheri, vitamine e fibre. Contiene fosforo, calcio e potassio, minerali in grado di fornire energia al nostro organismo. La vitamina E e la vitamina C combattono attivamente i radicali liberi, responsabili di rughe ed invecchiamento. La vitamina C e gli altri oligoelementi presenti nel frutto aiutano le difese immunitarie, ci difendono da raffreddori ed influenze e prevengono alcune infezioni. Vitamina C ed arginina mantengono le arterie in salute e la circolazione efficiente. Il contenuto di taurina regola le contrazioni cardiache ed aiuta a mantenere la giusta pressione. In sintesi, mangiare kiwi riduce il colesterolo ed aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari. È un frutto consigliato in caso di diabete, poiché contiene pectina, grazie alla quale regola la glicemia e rallenta l'assorbimento degli zuccheri. Grazie alla vitamina C, la polpa del frutto contribuisce a distendere e purificare la pelle. Ma come utilizzarla? Schiaccia i kiwi, mescola la polpa con dello yogurt ed applicala sul viso per 20 minuti. Avrai una pelle più luminosa in poco tempo. Inoltre, avendo proprietà energizzanti, stimola il sistema nervoso. Mangiare i kiwi aiuta a combattere la depressione. I nutrienti del frutto agiscono sullo strato cheratinoso dei capelli, contribuendo a renderli forti e lucidi. Il kiwi, poi, è un diuretico naturale. Grazie a questa proprietà, previene vene varicose, gonfiore le gambe e combatte la cellulite. 100 grammi di frutto contengono circa 60 calorie. Per questo motivo è indicato nelle diete epocaloriche. L'elevato apporto di fibre regola le funzioni intestinali. Non bisogna però esagerare, un consumo eccessivo può causare diarrea. In alcuni soggetti sensibili può provocare reazioni allergiche o di intolleranza. Attenzione! Il kiwi non è indicato per chi soffre di diverticolosi del colon, a causa dell'elevata presenza di semi. Buon umore? Pelle luminosa? Circolazione efficiente? Bastano 3 kiwi al giorno! Puoi trovare contenuti di Benessere 360 anche su smartphone e tablet. Scarica le nostre applicazioni. Iscriviti al canale per ricevere nuovi video e seguici sul portale per scoprire un mondo di benessere. Partecipa alla community per aggiornamenti e discussioni.